Ragazzi, mi trovo adesso in Via Lata, una traversa di Via del Corso. Questa è la fontana del Facchino. Questa è stata commissionata dalla confraternita dei portatori d'acqua. Vedete? Questo è uno che trasporta l'acqua. Anticamente era messa su Via del Corso, poi dopo con la costruzione di questo palazzo, che è il Palazzo dei Carolis, è stata spostata nel lato qui in Via Lata. Come potete vedere, questa qua, questa statua, ha la faccia molto rovinata. Perché i monelli, i ragazzi, quando passavano gli tiravano le sassate. Il motivo? Il motivo è che dice che questa statua assomiglia a Marti Lutero, specialmente per il berretto. Questa è una delle statue parlanti di Roma, parlante di Roma che sono quelle di Pasquino, la sora Lucrezia, la madama Lucrezia, il babbuino. Parlanti perché i cittadini di Roma ci mettevano attacca di sopra e dei fogli e criticavano l'operato dei governanti. Eccoci qua. Questa è la famosa botticella. La confraternita degli acquaioli, si chiamavano. Erano quelli che portavano l'acqua presso le abitazioni private. È una fontana del fine 500. Ciao ragazzi. Grazie.